Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento Citroen 2 cavalli Charleston, la leggendaria utilitaria francese, edizione De Agostini in scala 1 a 8, uscita numero 29. Sono davvero molto contento e chi ha seguito i video precedenti capirà anche perché che in questa nuova sessione di montaggio tutti i codici corrispondano perfettamente a quelli che poi in effettivo sono i pezzi da montare sul nostro modello e anche le immagini sono quelle che poi alla fine rappresentano davvero il montaggio che abbiamo appena effettuato. Come avete potuto vedere nel numero 27 non era proprio così. Comunque andiamo avanti. Andiamo a dare un'occhiata rapida a quelle che sono le informazioni contenute in questo fascicolo, primo numero, secondo pagina di copertina, numeri utili e servizi e poi abbiamo un po' di storia di di questa iconica autovettura. Qua ci sono informazioni molto interessanti. Come ho detto anche in altri video non si può non amare anche quella che è stata la nascita, la storia appunto che ha determinato la nascita di questa autovettura. E' vero, è bellissima perché chi la ama per forza che è affascinato dalle forme, da questa colorazione particolare, questa nuance di colori meravigliosa. E proprio perché vi piace io vi esorto a dare un'occhiata anche a quelli che sono i contenuti scritti, non soltanto le immagini. Ecco perché dico bello il modello. Abbiamo fatto la collezione perché ci piace vederlo esposto ma è bello anche sapere di avere un arricchimento aggiuntivo dettato appunto da quello che è la storia. Se poi mi ricordo vi faccio vedere due cose qui per confermarvi il corretto montaggio nel numero 27. Abbiamo quasi finito e poi procediamo a questa ultima sessione di montaggio in attesa poi dei prossimi numeri che arriveranno, che saranno il 30, il 31, il 32 e il 33. Speriamo che ci sia almeno una sola persona che ha piacere di leggere e che ovviamente non ha fatto la collezione. Quanto io sto facendo vedere mi basterebbe già. Non ho mai avuto nessun commento in merito mi dispiace perché penso mi sa che i ragazzi che mi seguono mandano avanti velocemente ma fate molto male non perché non mi guardate come tempo di visualizzazioni che sì mi dispiace ci mancherebbe ma perché a me piacerebbe che le persone che fanno dei modelli che vengono riprodotti che quasi sempre hanno un'importante storicità non soltanto la bellezza che poi la bellezza ragazzi non è gratuita c'è sempre una storia dietro ecco questa storia a me piacerebbe che voi imparaste con la curiosità anche è proprio il desiderio di volerla conoscere. Comunque andiamo avanti andiamo ad aprire questo ultimo numero qui è tutto metallo abbiamo gli ammortizzatori delle sospensioni destre e i tiranti del cilindro delle sospensioni tre serie di viti OM PM NM da avvitare esclusivamente nel metallo qui se volete potete usare un lubrificante io del grasso va bene qualsiasi cosa dell'olio è perfetto per crearci i filetti e poi un'altra serie di viti la GP che va avvitata nella plastica e qui il lubrificante non deve assolutamente vederlo bene mettiamo il modello come disposto nella figura quindi così questo lo metto qua a lato perché altrimenti la visuale viene non messa a fuoco perfettamente in quanto mi legge anche il fascicolo dietro allora prendiamo subito il tirante eccolo qui andiamo a vedere cosa ci dice prendiamo una vite NM io userò quella del fascicolo precedente perché se vi ricordate l'avevo già bagnata nel grasso ecco qui e andiamo ad avvitarla nel foro superiore qui e ci creiamo il filetto non è indispensabile che voi facciate questo lavoro se volete lo fate altrimenti ci mancherebbe prendiamo lo stelo più sottile e lo inseriamo qui che c'è la parte in gomma così lo facciamo andare all'interno dello spazio dedicato è molto duro aspettate un attimo ce la facciamo perché c'è lo spessore della vernice piano piano senza fare danno vedete che vi faccio vedere c'è la vernice che fa da spessore tanto poi il pezzo non si vede all'interno ci mancherebbe facciamolo entrare prima così perfetto adesso possiamo inserirlo correttamente ma soprattutto lo riusciamo a far entrare ecco qua avvitiamo che bellezza guardate come scorre il pezzo all'interno che bello ok fatto questo prendiamo una vite o m e andiamo a avvitarla nell'unico foro rimasto quello sotto non servirà avvitarla tutta perché una volta che vedrete che avrà attraversato tutte e due i fori ecco qui li fermate andiamo a prendere adesso il pezzo 29.1 e 29.2 e e andiamo a mettere la vite all'interno così e blocchiamo il pezzo e e e e e e e ok ok a questo punto prendiamo una vite gp fate sempre attenzione quando maneggiate il modello guardate io lo prendo da qui fate attenzione a tutte le parti in plastica che avete e e e mi vado a creare il filetto qua e sempre con la stessa vite e lo creo qua non serve arrivare fino in fondo considerate sempre lo spessore di questo collarino sono e e e e e ora Vediamo Che bellezza Che bellezza Bellissimo Perfetto Passiamo dall'altra parte La parte Anteriore Andiamo a prendere il pezzo 29.3 E 29.4 Che ovviamente sono gli unici due rimasti 29.4 29.3 Prima di mettere questo Andiamo a inserire Questo all'interno Anzi Prima di fare questo Prendiamo la vite La vite PM Prima di mettere il pezzo Prima di mettere il pezzo Perfetto Anzi Prima di rub questa vite andrà poi a fissare sia questo che questo andiamo ad inserire prima per prova se è libero di entrare perfetto lo inseriamo qui il gommino tiriamo su questo mettiamo il pezzo all'interno controllato le viti mi sembrava molle infatti però non lo era no infatti perfetto a questo punto prendiamo l'ultima vite che ci serve la gp e abbiamo terminato anche questo montaggio e e Grazie a tutti. Aspettate ragazzi perché inquadrare e lavorare nello stesso tempo in maniera comoda non è così semplice. Aspettate ragazzi. Proviamo. Fate attenzione, appoggiate le mani solo sulle parti metalliche. Attenzione a queste plastiche. Lo so, lo ripeterò altre decine di volte perché so che molti di voi purtroppo romperanno inavvertitamente il pezzo e mi dispiace perché basta una minima distrazione e si rompe. Guardate. Spettacolo. Bene ragazzi. Adesso curiosità. Guardate. Se noi andiamo a girare il modello lo tengo così perché se lo appoggio questo in plastica e rischio di danneggiarlo. Se noi andiamo a mettere il modello così come è questa foto non voglio rovinare il fascicolo e andiamo a vedere questa foto qua questa sospensione che abbiamo messo nel numero 27 non è corretta con questa queste sono corrette con questa foto e questa è corretta con questa foto però se guardiamo invece questo ci dà tutti i pezzi corretti ovviamente dobbiamo girarlo al contrario questo per farvi vedere la discrepanza che c'è stata all'inizio guardate adesso questo e questo questo e questo si scusatemi vi devo far vedere questo perché questa è la parte sotto dicevo questo e questo qui questo pezzo qui e questo questo pezzo qua guardate vedete lo stelo qua e questo e questo che invece è tutto unico è questo però ecco dove ci andiamo a incasinare in questa foto giriamola così è corretto è come è montato è corretto sono le foto andate a vedere il fascicolo numero 27 che sono sbagliate sono sbagliate vi faccio vedere una cosa andiamo a prendere il fascicolo 27 non riesco a farvi la rappresentazione di tutto quello che abbiamo montato perché il video verrebbe ancora più lungo però insomma mancano solo questi pezzi rispetto a quello che vi ho fatto vedere prima guardate ragazzi per farvi capire che non è che Michele ha deciso di metterli così ma per quello che vi ho spiegato nel numero 27 seguite tutti i miei video così potrete capire quello che a noi alla fine ci interessa è questo sono queste immagini qui del modello finito e queste immagini qui dove qui ti fa vedere il montaggio del 27 e adesso vi faccio vedere quindi un lato il sinistro lato guida da sotto e qui ti fa vedere il lato destro da sotto che è il 29 quindi andiamo a girare prima di tutto il nostro modello montaggio 27 andiamo a vedere questa foto che è preso il modello così guardate adesso bene fate attenzione non sarà facile farvi vedere tutto ma questa è la foto finale guardate questo pezzo qui abbiamo un collarino piccolo e abbiamo lo stelo intero con il pezzo più sottile davanti guardate un attimo che voglio che guardiate bene quello di cui sto parlando voglio che si comprenda guardate qui abbiamo lo stelo piccolo che diventa grande e poi qua è tutto grande stelo piccolo che diventa grande è tutto grande ed è perfettamente il montaggio di questo andiamo a vedere quello dietro abbiamo dopo la vite un collarino più piccolo che diventa grande e poi è tutto di un'unica misura abbiamo un collarino piccolo che diventa grande e poi tutto di una misura questo è il 27 andiamo a vedere il 29 tutto questo che vi sto facendo vedere è che perché purtroppo a mio parere nel fascicolo 27 e nelle foto anche che si susseguono c'è una discrepanza con quello che è poi il prodotto finito adesso andiamo a girare questo in questa maniera perché stiamo vedendo l'ultimo montaggio che abbiamo fatto il 29 eccolo qua guardate mi avvicino un po' forse qua riuscite a vederlo meglio così ecco questa è la posizione che abbiamo adesso qui abbiamo il braccetto qui abbiamo il braccetto poi diventa grande e poi è tutto unico fino a qua perfetto guardiamo adesso questo qui abbiamo il braccetto poi diventa grande e poi abbiamo uno stelo più piccolino eccolo qua io ho montato perfettamente in maniera corretta quello che è riportato sulle ultime due foto fascicolo 29 questa foto qui fascicolo 27 questa foto qui perché se andate a compararle con queste è sbagliato guardate e vedrete stessa cosa qui se andrete a comparare questa foto con queste non corrisponde provate e vedete io ho pensato di fare il montaggio come avete appena visto sono contento di come è stato eseguito perché corrisponde secondo me al giusto montaggio il vostro modello è solo il vostro modello voi ragazzi fate quello che più ritenete necessario e soddisfacente per voi Michele vi ringrazia del vostro tempo stavo pensando ma se farvi vedere anche tutto il resto ma si faccio solo un'immagine veloce di tutto quello che abbiamo montato fino al numero 29 ed eccoci qua questo è il punto in cui siamo arrivati con il montaggio fino al fascicolo numero 29 di questa leggendaria utilitaria francese Citroen 2 cavalli Charles in scala 1 a 8 edizione De Agostini guardate soltanto che meraviglia tutto questo è metallo portiera metallo cerniere in metallo vetri basculanti come in quella vera vernice riprodotti in maniera eccellente pannello interno in plastica le maniglie non funzionano sono estetiche bellissime il sedile tutto ricoperto in tessuto vero con la similpelle dietro fascia lombare e sacrale gommini con ganci metallici tutto il tubolare è in metallo verniciato in nero che dirvi spettacolo treni treno di gomme pesantissimo è tutto metallo la borchia è in plastica cromata la gomma è una gomma molto dura per evitare che esponendo poi il vostro modello possa appiattirsi anche se poi vi farò vedere come è consigliabile presentare il modello per evitare comunque che le ruote tocchino per terra motore parte del motore quasi tutto in metallo cruscotto con chiave da inserire nel suo apposito spazio che consentirà la simulazione sonora dell'accensione e del motore che sarà in moto accelerando o decelerando accensione delle luci sempre tramite la chiavetta ci sarà ovviamente poi successivamente nelle successive sessioni di montaggio la consegna di un piccolo altoparlante per poter appunto riprodurre i sonori che dirvi ragazzi è un modello se vi piace meraviglioso bene Michele vi saluta vi ringrazia del vostro tempo vi dà appuntamento ai prossimi video della Citroen che saranno numero 30 31 32 e 33 datemi tempo che mi arrivino perché è ovvio che se non faccio i video è perché non ho ricevuto ancora il materiale ok ragazzi se avete piacere iscrivetevi al canale attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato ringrazio tutti quelli che mi seguono tutti quelli che mi supportano che mi consigliano che mi fanno critiche costruttive e ringrazio e ringrazio tutti quelli che anche se è fastidiosa comprendono l'importanza della pubblicità nei video delle persone che si dedicano a fare questo tipo di direi tra virgolette per quanto mi riguarda lavoro perché qui ancora sapete i lavori si pagano e ti permettono di vivere ma io sono all'inizio non posso pretendere assolutamente nulla ecco l'unica cosa che vi chiedo abbiate pazienza la pubblicità dà fastidio ma è l'anima del commercio ciao ragazzi un abbraccio a voi e a tutti i vostri cari più cari